Oggi parliamo di Canon EOS 6D, una fotocamera vecchia, una fotocamera di cui abbiamo già parlato, una fotocamera di cui molti di voi continuano a chiedermi, una fotocamera che continuo a vedere in giro e che nonostante sia fuori produzione è ancora molto richiesta. Andiamo nel corso del video di oggi a cercare di scoprire perché è ancora così richiesta, che cosa ha di buono e se vale la pena acquistarne una, seppur usata, ancora anche quest'anno. Ciao a tutti amici bentornati sul mio canale, io sono Cesare, mi occupo di fotografia, alcuni di voi già lo sapranno, io ho usato Canon EOS 6D per tutta la mia vita fotografica praticamente perché io l'ho acquistata quando era appena uscita pagandola una cifra improponibile e diciamo che è stata la mia prima fotocamera digitale full frame, quindi io già scattavo qualcosina a pellicola, già scattavo con delle digitali di fascia inferiore, quindi quella è stata la mia prima macchina diciamo un po' seria e da lì in poi sono andato via via costruendo, ma quella macchina è sempre rimasta nel mio zaino ed è una macchina che utilizzo ancora oggi. Nel caso questo tipo di argomenti suscitassero il vostro interesse colgo l'occasione per invitarvi a iscrivervi al canale cliccando il bottone qui sotto, se volete attivare anche le notifiche vi arriveranno un sacco di notifiche quindi non fatelo, però se invece mi lasciate un like a questo video mi fate tanto felice. Andiamo a incominciare e la prima cosa che vi dico è ovviamente che io Canon EOS 6D la utilizzo ancora oggi, io questa settimana l'ho usata due volte, due volte l'ho usata, è la macchina che uso più spesso di tutte perché è una macchina che sta proprio nel mezzo, cioè non è una super professionale quindi non è una R3 e non è neanche una 5D se è per quello, è un pelino sotto, però non è una piccola PSC entry level, è una macchina che si colloca esattamente a metà tra le fotocamere chiamiamole un po' giocattolo, quindi quelle che compri come prima macchina un po' da combattimento perché devi fare prove, esperimenti perché devi imparare, non è quel tipo di macchina secondo me, è una macchina che va già verso le professionali, va decisamente verso le professionali, tant'è che io la uso con successo per lavoro, la uso tutte le settimane per lavoro e non mi manca quasi nulla per quello che devo fare io. Ora andiamo a vedere un po' di specs e la paragoniamo con Canon EOS R6, quindi due macchine che sulla carta dovrebbero essere molto diverse, andiamo a vedere. Innanzitutto la prima cosa che mi salta all'occhio è la data perché la prima è stata annunciata nel 2013 mentre la seconda è stata annunciata nel 2020 e quindi vabbè sono passati ben sette anni tra una e l'altra, ovviamente la tecnologia è molto cambiata, i corpi macchina sono molto cambiati, si è addirittura passati a un nuovo sistema con delle nuove ottiche, la qualità d'immagine è sempre quella Canon e quindi i colori sono sempre quelli. Un'altra cosa che ritroviamo sono i megapixel perché entrambe le macchine hanno 20 megapixel, quindi io non sono fanatico dei megapixel, anzi io sono straconvinto che le macchine di ultimissima generazione vedo che ce ne stanno proponendo in tutte le salse da 40, 50, 80 megapixel, ma cos'è sta roba? E lo dico ai produttori, ragazzi svegliatevi, non le vogliamo delle macchine da 40 megapixel, ci state cacciando in gola a forza una cosa che il vostro stesso marketing vi ha convinto sia quello che noi vogliamo, cioè siccome ci avete convinto a comprare fotocamera dopo fotocamera aumentando i megapixel, vi siete convinti che continuando ad aumentarli continueremo a comprarle, guardate che non funziona così, ci state dando delle fotocamere con dei file indigesti, con delle fotografie che facciamo fatica a stoccare, non le vogliamo quelle robe lì, vogliamo una roba sana, 20 megapixel, 24, 26, 30, va ancora ancora bene, ma sopra i 30, cioè non fatene così tante di macchine da 40 megapixel perché poi non ve le compriamo, fatene una nella linea di macchina da 40 megapixel, ma non fate tutte le macchine da 40, 42, 46, fatecene anche qualcuna da 20 perché ci avete rotto le scatole con tutti questi megapixel. Veniamo alla sensibilità ISO, qui ovviamente vediamo un bel vantaggio per la R6 perché la R6 va da ISO 100 a ISO 102.000, mentre la povera 6D va da 100 a 25.600, quindi c'è una bella differenza, ovviamente questo cosa vuol dire? Che dobbiamo usarla agli ISO massimi possibili, ragazzi no, io sconsiglio di usarla agli ISO massimi, per se è per quello io sconsiglio di salire sopra 6.400, per me è un po' un limite 6.400, io non vado mai oltre, anche se potrei non lo faccio. E attenzione, molti di voi mi hanno detto, ma non lo sai che c'è il video di qualcuno, un altro, un fotografo, non so, non mi ricordo chi, che dice che lui scatta a ISO 2.970.000 e ha le foto pulitissime. Ragazzi non mi interessa, lo so che esistono i guru che dicono che si può scattare con gli ISO altissimi e non avere rumore, ma non vi stanno dicendo niente della gamma dinamica e quella è una cosa che a me preme abbastanza, perché se la tua foto non ha gamma dinamica e andate a vedervi le tabelle, ci sono le tabelle online di come cala la gamma dinamica di una macchina fotografica all'aumentare dei valori ISO, quindi non è il rumore. Il rumore di cui ho già parlato in un altro video che non so se esce prima o dopo questo, ma credo prima, quindi secondo me lo trovate già. Il rumore può essere una cosa che aggiunge qualcosa alla vostra foto, soprattutto in un'epoca in cui è tutto digitale, è tutto intelligenza artificiale, è tutto finto. Avere una foto con della grana può anche essere un plus a mio parere, ok? In alcuni generi, non in tutti ovviamente, non in maniera scriteriata, però può dare un qualcosa di più alle nostre immagini, però la gamma dinamica invece è una cosa che perdiamo e una fotografia scattata senza gamma dinamica non la recuperi più, quindi è quello che a me non piace di scattare con gli ISO alti, neanche il rumore. Procedendo nel confronto vediamo che ovviamente le macchine sono diverse, nel senso che hanno un display molto diverso, il display della 6D è fisso, il display della R6 è tiltabile e articolabile, ha una risoluzione molto maggiore, una velocità, un frame rate molto maggiore, ovviamente la tecnologia è andata avanti, ha delle funzionalità touch in più, perché la 6D è un pochino acerba anche da quel punto di vista. Una cosa interessante è che entrambe hanno il wireless incorporato, quindi questa era già una cosa molto buona della 6D, io ho usato la 6D con il wireless durante un evento per TikTok Italia, per cui scattavo in JPEG e mi mandavo in tempo reale le fotografie sul telefono per condividerle in tempo reale con le persone, quindi già con la 6D si può lavorare ragazzi ad alti livelli per fare una cosa del genere, senza bisogno di prendere per forza la R6, perché la R6 sia meglio, non c'è dubbio, la R6 è meglio della 6D, però io vi dico che si può ottenere grosso modo lo stesso risultato anche con la 6D senza sfigurare per niente. Ok, il lato video è un'altra cosa dove si nota veramente la differenza, perché la 6D a malapena ti dava un Full HD, anche un po' scarsino, senza messa a fuoco automatica, senza niente, senza scelta di codec, senza log, un tubo, mentre la R6 ovviamente ti fa un bel 4K con anche il log, con anche possibilità di personalizzazione, di selezionare un po' di codec, quindi il lato video veramente la R6 ha un vantaggio clamoroso sulla 6D, ma io so benissimo che la gran parte delle persone che mi seguono, e anzi facciamo un sondaggio, fatemelo sapere giù in un commento, io sono convinto che la gran parte delle persone che mi seguono non facciano video, perché ogni volta che pubblico un contenuto sui video non me lo guardate, guardate solamente i contenuti sulla parte fotografica, quindi io sono convinto che una 6D per la maggior parte delle persone che mi seguono vada benissimo, perché per fare solo foto va benissimo, è per fare video che la R6 ha un vantaggio molto netto. Un'altra cosa su cui, e questo è il vero punto dolente della Canon EOS 6D, quindi secondo me è una gran macchina, rimane una gran macchina, il tasto dolente qual è? La messa a fuoco. È un sistema di messa a fuoco, attenzione, che è buono, è un sistema di messa a fuoco che a me piace, con cui io riesco a lavorare nella massima serenità e faccio tutto quello che devo fare, non mi è mai mancato niente. C'è da dire che rispetto alle macchine di oggi, il sistema di messa a fuoco di 6D è un po' indietro, nel senso che la tecnologia è migliorata e oggi le mirrorless riescono ad agganciare l'occhio e tu puoi con la massima libertà agganciare il volto e poi comporre liberamente e fare foto a raffica cambiando verticale orizzontale, cambiando inquadratura, cambiando la scena, lo zoom, tutto quanto senza più preoccuparti minimamente della messa a fuoco. Questa è una bella cosa delle mirrorless che ci facilitano molto il lavoro. Su una reflex, sulla 6D, questa cosa non la puoi fare, quindi devi stare più attento coi punti di messa a fuoco, devi fare focus e recompose, devi prestarci più attenzione e usare il tuo corpo per continuare a compensare mettendo a fuoco nel punto giusto. È una difficoltà in più, io non ci faccio neanche caso perché sono nato e cresciuto così, per cui per me è normale. Per un utente moderno che si affaccia oggi su queste tecnologie, sono sempre restivo a consigliare una fotocamera vecchia perché la mia paura è, io vi consiglio una macchina vecchia, un utente inesperto la prende in mano, non la sa usare e dice che schifezza avrei dovuto prendere da subito una mirrorless che fa il lavoro al posto mio e così non devo imparare niente, però il risultato è che il feeling è che io vi abbia consigliato male, quindi sono restivo a consigliarlo e per questo sottolineo questo punto. Per il resto secondo me è una macchina della madonna, è una macchina che ancora oggi fa paura alla 6D. C'è da dire una cosa, io non ho mai apprezzato fino in fondo il sensore della 6D, nel senso che è un sensore che secondo me è un pelino indietro, anzi non secondo me dai, è un pelino indietro rispetto anche solo alla 5D Mark II. La 5D Mark II ha un file più bello della 6D. Poi attenzione, la 6D resiste meglio agli alti ISO perché è una macchina molto più recente rispetto alla Mark II e quindi resiste meglio su altre cose. Come file, come file puro, quindi scattiamo in una situazione ideale, se scattiamo a 100 ISO, il file della 5D è più bello del file della 6D, così come il file della 5D Mark IV è molto più bello del file della 6D. Il file di EOS R è più bello di quello della 6D, quindi è un file che io ho sempre trovato, non dico entry level perché comunque è full frame, comunque è bello, comunque è lavorabile, però non spinge tanto. Ci sono delle macchine che ho che spingono di più. Quindi senza dire per forza che questo sia un male, perché io la 6D la uso tuttora, la uso tantissimo e mi trovo bene, mi piace, però ho delle macchine che spingono di più con quel file, con cui posso maltrattarlo di più, lavorarlo di più in post-produzione e questa cosa mi piace molto sulle altre macchine. Dunque per chi è questa fotocamera? A chi la consiglio oggi? La consiglio sicuramente a chi vuole godersi una bella esperienza d'uso, perché la 6D è una bella macchina da usare. Se uno vuole proprio il feeling di stare usando una reflex, una macchina sì digitale, ma con ancora un feeling un po' più analogico rispetto a quegli smartphone che usiamo oggi, perché le mirrorless sono degli smartphone con l'obiettivo praticamente, ha sensazione. A me non piace lavorare con le mirrorless, non mi piace per niente. Le uso per fare video, per fare video sono impareggiabili, ma per fare foto a me non piace, e so che molti di voi la pensano come a me. Io non mi trovo bene a fare foto con le mirrorless, quindi se uno vuole il feeling di fare una foto con una macchina un po' retro ormai, la 6D è una macchina fantastica, perché a fronte di tutta la bella sensazione dell'esperienza d'uso, con tutti i bottoni delle macchine anche professionali, quindi una bella esperienza d'uso, però ti porti a casa anche un bel file. Io non ho mai avuto niente di cui lamentarmi del file della 6D, è assolutamente a parer mio paragonabile al file di R6, che come sapete il file di R6 a me non ha fatto impazzire. Fermo restando, il file di R6 resiste meglio agli alti ISO ed è più lavorabile, ok? È un file migliore perché è più lavorabile ed è un file più moderno, più professionale, però la resa finale, se io faccio la stessa foto con le due macchine, la resa finale è molto vicina. Io vi dico che io stesso farei fatica a distinguerle, quindi siamo veramente lì. Rimane pur sempre da dire che ovviamente R6 ha un sistema di messa a fuoco che ti permette di fare cose che con la 6D fai molta fatica a fare. Magari ci riesci lo stesso, ma devi essere un manico, invece con la R6 fa tutto da sola e ti porti a casa più foto giuste, con la messa a fuoco giusta, anche in condizioni difficili dove invece con la 6D te la caveresti a fatica o non te la caveresti proprio. Quindi io la consiglio da un lato a chi vuole godersi l'esperienza d'uso, dall'altro lato la consiglio a chi fa generi fotografici un po' statici, dove non c'è troppo movimento. Quindi se facciamo una gara di Pentathlon probabilmente non è la macchina migliore che possiamo prendere, se facciamo Formula 1 men che meno non è la macchina migliore che possiamo prendere. Lì è meglio la R6, è meglio una qualunque macchina moderna, una R7, una qualunque mirrorless con un sistema di messa a fuoco che ci aiuti a fare quello che dobbiamo fare. In quel caso la mirrorless è meglio, lo riconosco. La consiglio a chi deve fare fotografia di interni, ritratto, va bene per fare matrimoni, ce la si cava tranquillamente a fare matrimoni. Ovviamente anche lì la R6 avrebbe un vantaggino ma piccolo. Io non vi nascondo che secondo me quando Canon ha pensato R6 l'ha pensata per essere una videocamera, perché il lato foto secondo me è un po' debole. Si funziona, le fa bene, però non ha aggiunto quasi niente rispetto alla 6D. Da quel punto di vista secondo me R6 è molto forte per fare video, ma lato foto ha aggiunto poco tutto sommato rispetto alla 6D. Per questo motivo vi dico, secondo me rimane una macchina estremamente valida e nelle mani giuste, se la gioca quasi alla pari. Cioè io vi dico, ovviamente se andiamo a fotografare una gara di Formula 1, prendiamo un neofita e gli diamo la R6 e poi ci sto lì io con la 6D, è possibilissimo che il neofita porti a casa più foto giuste perché ha una macchina che fa una raffica molto maggiore rispetto alla mia e un sistema di messa a fuoco che gliele becca quasi tutte giuste da sola. Mentre io faccio fatica perché devo mettere a fuoco in altra maniera, mettere a fuoco la Formula 1, faccio fatica e quindi in quel caso avrebbe veramente un vantaggio la macchina più moderna. Però proviamo a fare il contrario invece. Prendiamo un neofita totale, gli diamo la R6 e lo mettiamo di fianco a me a fare fotografia di interni o fotografia industriale. Lì a scanso di inquadratura, composizione eccetera eccetera, però lì facciamo tutti e due la stessa identica foto, la stessa identica con due macchine con sette anni di differenza. Quindi nelle mani giuste secondo me la 6D è una macchina che ancora oggi consegna quello che deve consegnare, in certi generi, non in tutti. Se devi fare AVFA o un houseport non è la macchina più indicata, però è una macchina che consegna il risultato ancora oggi. Per questo motivo io la consiglio a chi magari sta iniziando e magari vuole prendersi una full frame usata, quindi senza spendere troppo, perché comunque è fuori produzione, quindi solo usata la troveremo. Per chi vuole prendersi una full frame usata reflex con cui cominciare e con cui prendere le misure e capire a cosa passare dopo. E quello a cui passi dopo potrebbe essere proprio la R6. Quindi dopo aver fatto pratica su una macchina economica ti riprendi grosso modo la stessa macchina che più o meno fa le stesse cose, la resa finale è quella, però ti prendi la stessa macchina ma stra potenziata perché sarà più forte lato video più forte lato autofocus. Ma se hai imparato sulla 6D poi con la R6 è una passeggiata. Mentre se cominci con la R6 ti perdi un po' di piacere di utilizzo e alcuni automatismi tuoi del tuo corpo di come impostare i movimenti te li perdi perché la macchina fa molte cose da sola quindi finisce che certe cose non le impari e questo secondo me è sempre un peccato. Bene amici detto questo io non voglio allungare troppo il brodo per cui vi lascio come sempre spazio nei commenti. Fatemi sapere se qualcuno di voi ha questa macchina, se la state usando, se siete indecisi, se la state cercando. Ne parleremo come sempre nei commenti. Vi ricordo di iscrivervi perché io rispondo poi con degli shorts verticali alle domande che mi fate quindi se non volete perderle il bottone è qui sotto. Come sempre è stato un piacere passare un po' del mio tempo con voi e io vi do appuntamento al prossimo video.